Ciao e bentornati sul mio canale. Allora prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al mio canale di youtube e di attivare anche la campanellina così appena ci saranno delle novità youtube vi segnala immediatamente il mio nuovo video. Partiamo da questo, oggi ho comprato, ho fatto alcune spesucce, ho comprato dei pensierini, dei regalini, cose semplici e poi mi sono anche comprato una cosina per me che l'avevo già vista da tanto tempo però ho trovato l'offerta e così oggi me la sono comprata ma quella ve la lascio per ultima prima partiamo dalle cosine più semplici sono tutte pensierini da 1 euro 1 euro e 52 euro niente di che sono cosini che poi ho metto tutte insieme e così faccio poi un pacchettino unico allora partiamo subito da questo non fate caso al sacchetto perché era quello che avevo in macchina e ho usato quello allora qua questo qui ok allora sono andato prima di tutto sono andato dal da 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 tedi non so se lo conoscete tedi è un negozio diciamo di origine america tedesca e ho comprato delle cosine allora mettiamo un po qua hanno fatto scontrino cliente ma 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 dov'è ai casi su eccolo qua uno scontrino allora tengo quello scontrino così se riesco vi dico i prezzi allora avevo visto avevo già visto l'altra volta in una forse ne avevo già parlato in un altro video e poi vabbè ho detto ero di corsa lasciato perdere e ho detto va bello compro poi da negozio qua sotto casa e in realtà è questo cavo è un cavo usb per il telefono questo qua è lungo e lungo due metri e lungo qua ci si vede qua lungo due metri e costava la bellezza di 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 3 euro e 50 c'è pure scritto sopra qua non è questo qua perché loro mettono i prezzi ma questi qua sono i primi prezzi quelli credo che si ecco quei prezzi che a quelli vendono in germania in realtà voi dovete sempre guardare il prezzo sotto quello in italiano lungo l'italiano quello per l'italia e solo che dal negozio dei cinesi mi costava tipo 8 euro scusate 8 euro per un cavo mi sembra un po esagerato cioè stiamo parlando di un cavo e non stiamo parlando di un non lo so io di un aeroplano e un cavo 8 euro per un cavo no e allora detto aspetta me lo sono segnato oggi che sono andato me lo sono comprato è anche molto bello perché è tutto è rivestito in tela ed è decorato quindi detto vabbè l'ho trovato simpatico e carino poi mentre che voli sono comprato queste stupende caramelle allora un signor che adesso non mi viene in mente sono il marshmallow anche queste qua ce n'è ce n'è la bellezza di 80 grammi e la la marca è as handels gmbh mainz fatto in mano non so dove sia vabbè comunque dolciumi quali chiamano anzi c'è scritto sopra un euro scritto qua un euro poi sempre per questione di dolciumi penso che tra un po si avvicina il compleanno di ogni amico ho trovato delle caramelle gommose gre creepy jelly sono delle caramelle fatte a forma di mostro più che altro di scaraformiche cos'è qua c'è uno scorpione qua c'è un animale animali strani non so se si vedono e il brand la marca che non c'è scritto ai vidal marca vidal allora qua marca vidal e anche queste qua che non c'è scritto sopra un euro hanno queste qua un euro e 50 queste qua un euro e 50 questo qua un euro poi sempre date di penso che erano in offerta ho preso due paia di guanti due paia di guanti che anche queste qua eccole qua erano in offerta usavano la bellezza di un euro scritto qua un euro ho detto vabbè spettamente di qualcosa si vede meglio è torsi come che tanto questi qua sono già regali per natale prossimo e natale comunque d'inverno non è d'estate in italia altro faccio che comprarle già almeno metto già da parte già i regalini per natale per due uomini è questo andato poi un'altra cosina che ho comprato è ecco anche qua quando spedisco dei pacchi con corriere o cosa succede sempre aspettate che c'è la luce messa male c'è sta riflesso sugli occhiali mi dà fastidio pure a me succede sempre che praticamente lo scotch non tiene e così ho comprato questo nastro da pacchi diciamo così in questo nastro da pacchi un euro ce n'è la bellezza di la bellezza di 60 metri scritto qua ma non so se si vede si è scritto qua ma non so se si vede no non si vede a quasi 60 metri per l'altro ho visto che ce n'erano altri tipi che costavano sembrava che costavano meno ma ce n'erano molti meno c'erano molti meno metri che a parità di dimetraggio questo costava di meno ok quindi alla fine gira tutto il negozio questo è quello che costava meno è anche questo vabbè filo dove nastro da pacchi un euro un euro un euro poi questo qui questo contenitore adesso voi lo vedete verde acqua ma in realtà è verde più scuro anche questo ho pagato un euro questo qua lo userò per metterci dentro dei regalini voi dite ma è un contenitore da cucina sì perché io da quest'anno o mi sono fatto l'idea che anche il contenitore del regalo deve essere reciclabile quindi praticamente cosa succede io ci metto poi tutti i pacchetti i regalini dentro lo chiudo e siccome che poi ci metterò della carta velina e quant'altro lo chiudo e così la persona che lo riceve oltre ad avere ricevuto diciamo la pseudo scatola si ritrova anche con un contenitore da usare per gli alimenti bella questa idea vero e poi sempre stando in questione di riciclaggio questo filo di stoffa lungo che non c'è scritto c'è scritto solo 450 grammi e un filo di stoffa ecco qua fatto così normalissimo filo di stoffa e lo userò per per chiudere i pacchi per loro lo chiamano filo di stoffa io lo userò per ci metto la carta velina intorno poi dovuto questo è anche questo e volendo e reciclabile perché anche questo qua si può riutilizzare non come quegli altri nastri di plastica che poi alla fine uno taglia butta via invece questo quasi può benissimo riutilizzare e questi sono questo è il primo blocco di acquisti di oggi voi state un attimo solo che metto via eccomi tornato nel frattempo ho cambiato anche l'inclinazione della lampada così non fa più riflesso sugli occhiali e non mi dà tra l'altro ma non mi dà neanche più fastidio a me ho messo via l'altro pacco tirato sul nuovo allora vedete qua sono andato da tigota allora da loro se trovo lo scontrino se trovo lo scontrino sì ok qua sarà più un pacciocco trovare i prezzi perché fanno un casino allora ho preso due confezioni di candeggina vabbè mi serviva e dico vabbè due confezioni di candeggina ac gentile che mi sono lo scoperta da un mese un mesetto più o meno mi sono trovato di un bene pulisce non rovina i tessuti è veramente fantastica veramente fantastica e ne ho preso due confezioni tra l'altro da loro appunto l'ho pagata alce candeggina gentile 2 euro e 88 2 euro sì 2 euro e 88 la candeggina poi sempre per questione di regalini di natale natale o comunque compleanni che adesso dovrò fare ho iniziato a prendere dei pensierini ho preso questo sapone per le mani al allora sapone per le mani con miele e olio di oliva della marca green pharmacy voi lo sapete che io con questa marca qua mi sono sempre trovato molto bene e fanno dei prodotti veramente ottimi e vedi straconsiglio e qui andate veramente sul sicuro e allora e questo qua l'ho pagato la bellezza di 49 centesimi vedete la dimensione della mia mano una saponetta 49 centesimi e questo qua è un regalino poi sempre per questione di regalini questa tutte queste cosine quando a parte il sapone a parte il sapone ma tutto quello che vi faccio vedere adesso questi quattro pezzi che vi faccio vedere adesso li ho presi tutti nel reparto quello da viaggio solitamente in fondo da te gota c'è tutto uno scaffale enorme che vende tutti produttini piccoli tutti da viaggio e lì si spende veramente poco 40 centesimi un euro 1 euro e 50 quindi per fare dei pensierini quel reparto la va veramente benissimo e ci sono tutte le marche tra cui appunto ho trovato questo gel disinfettante per le mani della napisan e ce n'è 50 ml e questo qui l'ho pagato napisan un euro 1 euro e 20 quindi veramente poco poi guardate questa che carina la nivea anzi questa qua ci faccio la no non ci faccio la copertina niente questa qua dove è sigillata è ancora sigillata non so se si vede sigillata ancora questa qua sono 30 ml 30 ml però è carinissima perché alla fine poi ti rimane volendo ti rimane la confezione piccola e dentro la condizione piccola una signora ci può mettere non lo togli orecchini le braccialetti le collanine non so ci può mettere quello che vuole e se lo tiene in borsa ovviamente lo deve lavare no però come crema è molto valida è finita la crema e rimane il barattolino questa la dimensione del barattolino e questa qua questa qua l'ho pagata un euro e 45 quindi vedete che comunque in quel reparto laggiù si spende veramente poco sempre in quel reparto lì anche questo è un altro regalino dental questo dentifricio dent ask allora la marca alla la marca credo sia dent ask la marca credo sia dent ask si dentifricio micro micro clean anche questo è un altro regalino che finisce per un compleanno e so già perché io so già a chi farli e non è che ho comprato così a caso so già a chi farli e poi nel reparto invece del viso creme viso e quant'altro questa crema maschera viso anti stress maschera viso anti stress del con olio di riso e bacche di goji la marca e il brand è mai maschera un marchio registrato di tavola spa quindi tavola spa questo qua è la maschera e questa qua anche questo l'ho pagata veramente poco perché è un pensierino è allora l'ho pagata la bellezza di un euro e 65 quindi come vedete vi ho detto che avevo speso veramente poco per fare questi pensierini è effettivamente perché se poi sono pensierini ma diciamo un euro di qua alla fine il pensierino se voi considerate che non so il contenitore tipo questo qui voi ci mettete dentro non so io butolino la maschera il dentifricio il sapone la crema mani alla fine cioè se voi dimettete voi ci mettete della carta bilina dentro poi ci mettete tutti questi prodotti di qua alla fine si ritrovano con un contenitore riciclabile un crema mani corpo con contenitore riciclabile e poi tutti i prodotti che comunque si possono benissimo usare perché è un dentifricio si può usare sapone per le mani si può usare quindi alla fine vedete che questa è la mia nuova filosofia è adesso metto giù questo e e così vi faccio vedere l'ultimo acquisto che ho fatto da pittarello un attimo solo eccomi tornato in linea allora questo è il mio nuovo acquisto di pittarello ci faccio anche magari ci faccio la copertina 12 aspettate l'inclinazione delle luci 123 eccolo qua e mi insegno anche al minuto 16 e quindi devo segnare anche i minuti allora queste le avevo già viste sono una replica non sono chiamatela come volete sì una replica una replica del di un paio di scarpe che adesso adesso vi faccio non vi dico alla marca quando poi le vedete vi dico la marca ma tanto se avete in mente il brand capite anche che cosa mi sto riferendo io allora ovviamente non c'era il mio numero ok io porto il 46 e ho dovuto prendere il 45 la marca è questa qua la vedete seven ox questa qui ok e l'avevo già viste l'anno scorso ad agosto solo che costavano un fracco di soldi non me la sentivo dispendere tutti questi soldi tra delle scarpe tra l'altro di questo tipo di scarpa avevo già usato un altro modello simile e so che fine aveva fatto quindi non mi sembrava il caso di spendere 70 euro per quel tipo di scarpa è così oggi che le ho trovate e le ho pagate ah sì l'avete visto qua solo 27 euro quindi veramente veramente economiche ma tanto per dureranno tre mesi luglio agosto giugno luglio agosto e poi dopo di che faranno una brutta fine ho trovato queste scarpe qua eccole qua allora per chi è più conosce le marche questa qua è la diciamo la replica delle dude eccole qua questa ma la replica delle dude perché vi dicevo che non avevo voglia di spendere tutti quei soldi perché queste qua si è vero che sono molto leggere e la suola è veramente morbida però hanno un piccolo difetto queste scarpe fatte con questa suola che forse di camminarci sopra la suola dopo un po diventa un foglio duro e quindi si cammina poi praticamente per terra perché non è più non è più morbida come quando si compra si assottiglia e quindi praticamente tutti i sassolini poi si sentono sul piede e quindi io levo lo somma perché le avevo già usate anni fa questo tipo di scarpe così con questa suola e quindi io di spendere 70 euro per un paio di scarpe che poi fa quella fine lì non mi sembrava per niente il caso comunque per 27 euro tre mesi ci possono anche stare e va bene e va bene questi erano i miei acquisti veloci di oggi insomma sì se lo scontrino ok bene allora tutti i miei acquisti di oggi li avete visti io spero che il video vi sia piaciuto vi ricordo di iscrivervi al mio canale di youtube qui sotto di attivare anche la campanellina così non parlerete nessun prossimo aggiornamento e noi ci vediamo sempre qui sul mio canale di youtube con un nuovo video nei prossimi giorni vi aspetto sempre qui sul mio canale ciao ciao